In occasione della giornata mondiale delle malattie reumatiche 2023, l'APMAR, l'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, ha promosso un convegno istituzionale sul percorso terapeutico nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta. Un salto nel buio? Ne parliamo con il professor Fabrizio De Benedetti, presidente Reumaped. Perché è così complessa questa transizione all'età adulta per i pazienti con patologia reumatologica ad esordio pediatrico? Perché è un momento difficile che si caratterizza per il fatto che il paziente, l'ammalato, deve smettere di essere accudito in un ambiente in cui le cure vengono mediate dalla presenza dei genitori e deve farsi carico in prima persona della malattia come un soggetto adulto. Questo richiede ovviamente un passaggio di consegne, fatto molto bene fra pediatri e reumatologi e reumatologi dell'adulto, che permetta un passaggio senza traumi. Diamo qualche dato epidemiologico. Questa fascia di pazienti che percentuale rappresenta sul totale e che esigenze particolari esprime? Guardi, sul migliaio di pazienti con artrite idiopatica giovanile, che è la malattia reumatologica più comune in pediatria, nel nostro centro circa 200 hanno più di 18 anni e il 10% ha circa più di 21 anni. Questi sono pazienti che devono essere avviati la transizione, anzi forse potrebbero essere avviati la transizione un pochettino prima. Le esigenze sono tante perché è difficile insegnare rapidamente ad un adolescente o a un giovane adulto a cambiare setting mentale nei confronti della propria malattia. E questo richiede competenze multiple e congiunte fra pediatri e reumatologi e reumatologi dell'adulto. Cosa emerge dalla ricerca sul tema della transizione che avete svolto con We Research e APMAR? Cosa manca in particolare per la transizione? Allora, emerge la necessità di farla, emerge che vi sono alcuni centri in cui questa si riesce a fare, soprattutto centri in cui la reumatologia dell'adulto è molto vicino ai reparti di pediatria che curano i pazienti con patologia reumatologica. È un po' più difficile in altri centri che non hanno una reumatologia dell'adulto vicina. Manca soprattutto per fare una buona transizione il tempo, il tempo di poter organizzare degli ambulatori congiunti che idealmente vanno fatti nel reparto di pediatria reumatologica con il reumatologo dell'adulto che viene nell'ambiente in cui è abituato a essere seguito il paziente da transizionare e poi devono essere congiunte almeno un paio di volte e poi congiunte nell'ambiente dell'adulto in cui il pediatra reumatologo va insieme al reumatologo dell'adulto a vedere il paziente. Lei capisce il dispendio, l'uso di energie e di tempo. Spesso è necessario un supporto psicologico perché è un momento molto particolare, l'adolescenza è un momento molto particolare nella vita e quindi questo richiede tempo e il tempo, ahimè, nei budget ristretti delle nostre unità deve essere in qualche modo remunerato altrimenti non riusciamo a fare un buon lavoro. Ci sono patologie in cui è più ardua la transizione? Assolutamente sì. Ci sono due aspetti che sono fondamentali nella transizione. Uno, idealmente bisognerebbe transizionare un paziente che è in perfetto controllo di malattia, non in fase di attività, in trattamento però per cui si transiziona solo la terapia, non si transiziona la presa in carico di un paziente che ha delle difficoltà nel controllo di malattia. Poi ci sono delle malattie particolari, quelle croniche a lunga durata, per esempio il lupus eritematoso sistemico o la sclerodermia, che sono difficili a transizionare perché è difficile raggiungere il controllo di malattia perché sono pazienti con un carico di malattia, un carico psicologico sulla malattia che può essere molto importante, queste sono sicuramente le situazioni più difficili. Quindi idealmente, per riassumere, malattia ben controllata, attenzione alle malattie croniche difficili da controllare, tipo il lupus, che sono secondo me certamente le più difficili.